ok figlioli eccoci di nuovo qua stiamo andando verso le profondità ci siamo allora guardate ci siamo ci siamo da quella parte lì dove c'è quella zona azzurrina è l'entrata per l'arena quindi non è che sia così tanto distante laggiù c'è il teschio il fossile non so se lo notate l'avevamo visto insieme quella volta che ho registrato insieme alla mia bimba allora passiamo di qua qua dove solitamente andiamo a rubare le uova di rock drake guardateli altri guardateli ciao piccolini miei come state siete ancora vivi incredibile ok sgrannocchiamoci i vari rock drake che incontriamo proprio roba facile facile e poi che faccio mi butto no possiamo ancora andare di qua ok ci siete passiamo di qua e poi adesso si dobbiamo scendere no dobbiamo attraversare il fiume che palle adesso speriamo che nessuno si incastri qua in mezzo fate un bel saltone mi raccomando no ne avrò persi circa la metà se non di più ma porcaccia ok dai li ho recuperati tutti adesso proviamo a fare il salto della speranza vediamo vediamo se ci riusciamo non ci lasciano troppa vita no ma a me mancano due rock drake e mi mancano due reaper king oh cavolo eccolo eccolo praticamente da quando ho incominciato il video che l'ho perso mannaccia guarda dove si è bloccato ma porcaccia vieni dai che siamo in ritardo andiamo come vedete figlioli la prima difficoltà sta proprio nel raggiungere l'arena la zona dell'arena cioè non è roba da poco farsi tutta questa strada qui facendosi seguire ok ultima nuotatina dell'acido andiamo mai così no a te cos'è che non ti è chiaro seco ma secondo c'ha proprio dei problemi e cos'è dico secondo c'ha proprio dei problemi ok ce l'ha fatta meglio tardi che mai direi ok a questo punto dobbiamo entrare lì in mezzo oddio adesso i megalosauri come fanno a salire fatemi capire sta cosa guardate a che sfiga vediamo un po il giro che dobbiamo fare per farci seguire dai megalosauri allora cari figlioli ho caricato oh bene ci siamo presi un livelluzzo ho caricato un salvataggio precedente perché purtroppo dove eravamo arrivati prima non ci permetteva quella zona lì non ci permetteva di accedere all'arena con i megalosauri perché non possono saltare allora piuttosto che buttarci giù di sotto come abbiamo fatto prima seguiamo questa strada sarà un po più lunga ci saranno un po più di nemici però per lo meno ci permette di arrivare agevolmente la zona dell'arena che Grazie a tutti. Ok, adesso mi raccomando non andate là sotto, non giratevi male, stiamocene bene a sinistra. No, no, mi è caduto. Ma porcaccia, lo sapevo io che mi cadeva. Vabbè, per fortuna è stato un king, ce lo possiamo recuperare. Ok, se invece mi cadono i megalosauri siamo punto a capo. Guardate che bella l'entrata. Oh sì, davvero tanto figo. Allora, io vi lascerei qua e vado a recuperarmi quello che è caduto di sotto. Ok, abbiamo recuperato tutti. Adesso speriamo che sia veramente finita questa trasferta. Che a fin fine è stata bella lunghetta, figlioli. Una bella serie di bestemmio solamente per arrivare. Infatti, sti programmatori sono stati abbastanza bastardelli a metterci l'entrata dell'arena qua sotto. Mica facile, facile. Poi sarebbe stato un discorso diverso se invece dell'intelligenza artificiale ci fosse stato un compagno, quindi giocare in coop. Beh, lì cambia tutto. Sarebbe stato decisamente più semplice arrivare qua. Ok, ok. Dai, venite. Adesso ci rimettiamo tutti per bene dentro al cerchio che a me sembra anche più piccolo degli altri obelischi. Questo cerchietto qua. Oh, sbaglio. È una mia impressione. Ci mettiamo tutti... No, no, dai. È abbastanza grande. Dai, ci rimettiamo tutti lì dentro. Ok, se non sbaglio, nell'arena non c'è radioattività. Di conseguenza ci possiamo cambiare e mettere l'altra tuta. Credo io. Adesso verifichiamo. Ok, figlioli. Dai, mettiamo dentro le cose che ci richiede, che in questo caso sono solamente i tre artefatti. Ok. Ora, guardate. Per il livello facile ci chiede solamente i tre artefatti che abbiamo già preso. Invece per il livello medio ci chiede in più il piume di Rock Drake. Ah, ci chiede anche il feromone di Reaper Queen. Ok. Scaglia di Basilisco e veleno dell'innominabile. Mentre per il livello più difficile, l'Alpha, oltre alle cose che abbiamo visto prima, ci chiede anche i tre trofei del Alpha Reaper King, Alpha Karkinos e Alpha Basilisco. Nulla di difficile, ma sono rari da trovare. Il Basilisco, fin fine, ne ho trovato solamente uno, Alpha. Allora, siamo tutti dentro? Sì, dai. Pronti? Partenza? E andiamo? Vai! Solo 20 domazioni permesse. Minchia, domazioni. Sì, dovremmo essere... Uh, su questi sono già messi male. In teoria... Aiuto. In teoria abbiamo... 9 Megalosauri più 4 King. Quindi siamo in 13. Vai che ce la famo. Vai che ce la famo. Noi ci mettiamo su chi? Sul più potente. Questo qua, quello più potente. Questo un po' rossastro. Così. Oh, guardate come siamo dentro la bolla. Bene, bene, bene. Vai. Eccoci. Eccoci qua. Oh, wow. Tutto viola. Cos'è quella roba lassù? Non lo so. Uh, 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 eccolo, è già qui i figlioli. Oddio, sono a pieno. No, fammi salire, please. Allora, mettiamo tutti in modalità cattiva. Come si mette? Cioè, in modalità... Oh, non mi ricordo più. Aspetta. Allora, mettiamo tutti aggressivi col tastino I. Tipo incazzati. Dai che li voglio tutti incazzati. Allora, vediamo un po'... Fatemi passare. Eh, aiuto, sono incastrato. Oh, la miseria, cos'è? Vai, andate d'attacco. Mozzicate, distruggete. Allora, che bisogna fare qua? Allora, prima di tutto il fucilozzo lo posso imbracciare? No, vabbè. Uh, uh, guardate cosa ci tira. Ci tira ste palle qui. Mannaggia. Allora, dobbiamo fare fuori questi. Vediamo. Ok, è facile. È abbastanza facile. Non possiamo cadere di sotto, quindi bene. Vediamo se riesco a... Attaccate bravi. Oh, sì. Così mando gli altri. Molto. Che palle... No! Oddio! Aspettate che rimetto... Mannaggia, me l'ho dimenticato. Mettiamoci questa. Come vedete non ci sono radiazioni qua. Ok, vai. Andate a mangiarvi quel tentacolo. Io farò così. Ma non ho capito ste palle qua da dove arrivano. Guardate. Mannaggia, che poi danneggiano direttamente me. Ok, magnatevi anche questo. Vai. Scappa. Scappa che le palle mi inseguono. Oddio, sto morendo. Veloce. E' tosta, figlioli. E' tosta. Vai, maniamoci questi affari. Ok. Purtroppo gli animali non ci danno protezione da quei colpi lì. E questo non è per niente buono. Vai, così. Oh, my God. Vai, andiamo... Andiamo giù di pozioni. Ok, l'ultimo tentacolo. Ok, adesso in teoria lo possiamo colpire al cuore. Vediamo quanto tempo resta giù, non lo so. Venite, correte. Vai. Veloce, sgranocchiatevi il cuoricino. Vai. Mi sto dicendo di attaccare, ma non lo attaccano. Vai. Ok. Sono solo io ad attaccare. Perché? Dai. Ok. 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 Così va decisamente meglio. Vai, gli stiamo togliendo un botto di vita. Ah, basta. Già così. No. Oh, che palle. No, sono bloccato, figlioli. Basta. Volo. Aiuto. Allora, voi rimanete pure qua. Va. Allora, faccio io il giro e loro li lascio lì a mozzicarlo. Anche se poi, di fatto, non gli stanno facendo danno. Però, almeno, sono lì pronti. Ma porca miseria, oh. Mi ha già tolto la... Non ci credo. Mi ha già tolto l'armatura di sotto. Wow. Sono strapotenti, ste cacchio di palle. Come faccio a proteggermi? Dovrei spararli, però... No, così non è buono. Il problema è che da lui non possiamo sparare. Ed è messo male anche lui, eh. Non per dire, guardate. Cioè, il livello massimo qui... Sacrificabile morto. Come cazzo è morto? Poi non lo so. Io mi domando il livello massimo qua. Come cavolo si fa a fare? Mannaccia. No, la vedo male. Ah, quelle palle lì sono un problema. Sì, diciamo che è un pochettino noioso qua doversi fare ogni volta tutti sti tentacoli. Bisogna farsi tutto il giro. Ah, dovrei scendere ogni volta e farle sparare. Mannaccia. Credo. Vediamo che voglio provare. Sì, così esplodono. Però, minchia, che palle! Vai, facciamoci fuori pure queste. No, ma ne arrivano troppe di palle. Dai, come si fa con tutte ste palle? Che arrivano. Ok. Vai, attaccatelo. Attaccatelo. Io mi prendo altre pozioni qui. Perché se no facciamo una brutta... Facciamo una bruttissima fine, figliuoli. Mamma mia. Perché non lo attaccano? Vai, attaccate. Dove mi sono bloccato io, scusate. E attaccate. Vai. Ok. No. Cioè, me la sono bruciata questa. Che fa? Venite, va. E aiuto. Oddio, stanno spawnando in Emeless adesso, eh. Oddio, sono elettrici adesso pure. Oh my god. Qua è tanto tosta. Cos'è sta roba? Oh mio Dio. Allora, i miei megalosavoli stanno facendo una brutta fine, sì, eh. Facciamo così, figlioli. Oh mio Dio. Cari figlioli, siamo di nuovo qua. Sì, perché dopo essere morto innumerevoli volte, mannaccia, devo correre rimedi. Allora, prima di tutto cosa facciamo? Guardate, ci maniamo una di queste, perché mi devo dare molta più vita. Ok, fantastico. Allora, a differenza degli altri boss, purtroppo, in questo caso, ci sono degli attacchi che fanno direttamente danno a noi. Possiamo stare anche a cavallo dell'animale più potente del mondo, ma se ci fanno danno a noi, non fa molta differenza. Quindi mi voglio portare la mia vita almeno a 900. Così, molto bene. Poi io direi qualcosa in tempra, così, in peso, sicuramente, perché altrimenti non riesco a portarmi in amazza. Oddio, siamo al pelo. E direi sì, va bene così. Facciamo così, figlioli. Poi ci beviamo un po' di bevande per recuperare la vita, velocemente. Quasi quasi me ne prendo ancora qualcuna. Ne avevo, mi era avanzata? Ah sì, nel frigo, nel frigo. Ok, ce ne prendiamo al 300, con il peso ci stiamo. Nì, mica tanto. Quindi, figlioli, per poter distruggere quegli attacchi che ci manda quella bestiaccia lì di boss, dobbiamo sparare. Dobbiamo sparare noi, quindi o scendiamo dalla sella dell'animale a nostro rischio e pericolo, o altrimenti, figlioli, ci mettiamo a cavallo di un animale che ci permette di sparare. E quindi cosa non meglio di lui? Facciamo la prova? Sì, molto bene. Così almeno possiamo sparare. Cari figlioli, siamo stati ovviamente obbligati a fare così. Quindi non fate l'errore che ho fatto io di scendere con animali non cavalcabili. E dai, riproviamoci. Adesso svolazzo velocemente, velocemente sotto e speriamo in bene. Devo dire che come boss è veramente particolare, è differente dagli altri. È decisamente più lungo e più pericoloso. E non so perché mi fanno venire in mente i raid boss del gioco di... Gira, gira, lag, 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 del gioco di Borderlands 2. Non lo so, non me ne ha fatti venire in mente. Allora, ci andiamo a fiondare là sotto, figlioli. Come vedete, col drago si fa veramente tanto, tanto in fretta. E raggiungiamo i nostri amici. Riesco a fare una sprintatina. Vai, fammi sprintare un pochetto. Sì, bravo così. Che mi piace. Ok. Bypassiamo tutti questi rompipari. Non mi ricordo quanto faccio di danno. Mangiamoci lui, vediamo un po'. 6,50. Dai, non è malaccio, non è malaccio. Devo dire che non ho speso tantissimo tempo a livellarlo. Avrei potuto fare anche qualcosa di più. Però ovviamente non pensavo di portarlo e quindi non l'ho livellato più di tanto. Io il mio trucco per livellare ve l'ho già spiegato. Semplicemente abbandono gli animali in un posto buio, spawnano continuamente Nemless e automaticamente loro livellano. Praticamente li metto un pochettino più in là della base, dove c'è la piantina, quella che rigenera la vita. Ammazza quanti draghetti che ci sono. Ma non li avevo mangiati. Ma porcaccio. Ciao. Animalozzi miei, come state? State bene? Il papà vi ha abbandonato qualche minuto. Ho fatto in fretta. Oh, che c'è un rompipalle. Allora, abbiamo molti megalosauri messi male. Però purtroppo è così, vabbè, pazienza. L'importante è che non mi muoiono proprio tutti, magari che si salvino quelli che ho chiamato The Queen. E ovviamente i Reaper, a cui sono leggermente più affezionato. Allora, destreggiamoci qua in mezzo, in mezzo a tutte queste gambe qua, strisciamo un pochetto. Ok, e rifacciamo di nuovo di rimettere gli artefatti. Ok. Ci siamo tutti dentro? Sì. Allora, ci salgo sopra. Oh, sono dentro io, sì. Mettiamo tutti in aggressivo. Ok. Ho schiacciato il tastino I della mia tastiera che significa incazzati. No, 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 no. Venite qui, bastardi. Venite qui. Due secondi. Ma vaffan... No, no. Addio. Siamo solo io e lui. Non ci credo. Maronna, che sfiga figlioli. Maronna di le bestemmie. Madonna. No, no, no. Così non va bene. Così non va bene. Allora, tu mettiti e attacca lui. Attacca proprio lui, io mi faccio il giro. No, 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 hai già sbagliato. Gira. Mannaccella, Peppa. Vabbè, proviamoci lo stesso, figlioli. Sennò dovrò nuovamente ricaricare la partita. Perché ovviamente mi sono fatto un salvataggio prima di incominciare, prima di entrare. E direi che ho fatto davvero tanto bene. Se fossi in un server vero e proprio, beh... Che dire. Mi sarebbe già finita male da un pezzo. Guardate ste palle bastarde. Sono loro che rompono le palle. Però guardate. Con il drago ci possiamo veramente divincolare bene. Ok. Allora facciamo così. Forse non c'è neanche bisogno di sparare con il drago. Forse. Veloce. Veloce. Che arriva la palla. Ok. Ok. Dai che va benino così. Va decisamente benino. Guardate quante cacchie di... Ma chi è che me le spara? Aia. Mazza che botta in testa che mi ha dato. Aiuto. Me la son beccata questa eh. Me la sono beccata. E col drago ci stiamo un po' di più. A far fuori sti tentacoli. Guardate quante cacchio di palle... Che arrivano. Non so se dopo un po' Despawnano quelle palle. Temo di no. E mori. Vai. Via 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 via. La reaper queen sta lì a guardarlo in pratica. No. Aia. Ah mi ha distrutto la tuta. Aspettate che mi metto l'altra un pochettino più potente. Va. Me ne stavo dimenticando. Vai. No via il casco. Pantaloni e pettolini. Pettolino. Ok. Vai. Via 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 via. Allora. Come si distrugge questo boss? Beh semplicemente bisogna fare fuori tutte le volte. Dico tutte le volte perché bisogna fare più giri. Questi fottutissimi tentacoli. Una volta che abbiamo distrutto tutti i tentacoli. Lui poverino si affrange. Nel senso che si sente affranto di questa perdita. Quindi si china in avanti. E fammi saltare. Si china in avanti. E quando è chinato in avanti. Lo possiamo colpire al cuore. Che è la sua unica parte vulnerabile. Quoi i tentacoli sono stranamente tutti dritti. Perché? Aiuto. Ah. Curiamoci. Allora. E salta. Oddio ma lui sta morendo. Cacchio non me ne ero mica accorto eh. Oddio quante. No. Via. Via. Wow. No è davvero difficile questo boss. A differenza di tutti gli altri è davvero tanto difficile. Allora. Guardate quante ne arrivano. Ok dai siamo con un pelo di vita. Credo che anche questa qui sarà un fail. Ah no 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 no. È troppo difficile. È troppo difficile. Cazzarola. Ho già perso il drago. Non ci credo. E vabbè. D'altronde siamo da soli a affrontare un boss. E niente. Vabbè. Dai. Mi suicido. Tu vieni. Moriamo insieme. Moriamo vicini. Dai. Bastardo. Maledette palle bastarde. Purtroppo sul king non possiamo sparare. Vediamo se così lo posso. Le posso distruggere magari con queste palline qua. Sì. Sì. O no. No. Neanche con la bocca. Niente. Siamo morti. E purtroppo è così. Va bene figliuoli. Dai. Io ci riproverò per la quarta, quinta, sesta volta. Ormai ho già perso il conto. E pazienza. Grazie a tutti.